il dittatore la saggezza viene dalla pluralità delle vite a cura di vb il dittatore teneva le riforme come un segnalibro tra le pagine di un libro che non finiva mai di leggere e le magagne delle regime esplosero come uno scroscio di ossa fratturate il capo religioso disse al popolo non c'è altra via figlio vomita per anni le proteste si erano celebrate nelle moschee all'inizio erano un sussurro poi un bisbiglio alla fine divennero un fuoco di voci che scoppiava al chiuso e allo scoperto nelle piazze e nelle strade il dittatore ricorse alla forza ma l'esercito non era più con lui e il popolo chiamo la sua vittoria caduta del regime commento quando il karma collettivo di un popolo chiamato rivoluzione si deve compiere si compie anche se chi detiene il potere ha una grande forza militare e la forma coscienza della rivoluzione che invade come forma pensiero le menti dei militari e li fa passare dalla parte dei rivoluzionari o li rende passivi la vita del piano fisico è decretata dai piani superiori di esistenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti